Lo sportello del Cittadino e Polifemo si stanno occupando delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della consacrazione del Santuario Nostra Signora di Fatima, sito a Talsano Taranto. È un momento importantissimo e davvero toccante per la comunità religiosa di Talsano e di tutta la provincia ionica. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa di presentazione degli eventi celebrativi del 13 maggio e naturalmente saremo presenti con le nostre telecamere e i nostri microfoni quel giorno. Collaborare con la parrocchia di Nostra Signora di Fatima qui di Nostra Signora di Fatima è una bella e sana abitudine, una collaborazione antica, datata possiamo dire e che è anche destagionalizzata nel senso che 365 giorni l'anno essendo una parrocchia attiva offre davvero tanti spunti per venire qui presso il Santuario. Quest'anno poi per quanto concerne i festeggiamenti di Nostra Signora di Fatima ricorre davvero un anno speciale, 60 anni della consacrazione del Santuario, quindi c'è un particolare pathos che anima davvero la comunità di Talsano. Anche se il Santuario di fatto è un punto di riferimento non solo per questa vitale comunità ma un riferimento del territorio e non solo perché sappiamo che molto spesso ci sono queste sinergie che si attuano con comuni di altre regioni, insomma questi gemellaggi che vanno ad arricchire poi anche quelle che sono le attività del Santuario stesso. In modo particolare sono stata coinvolta per la presentazione del libro scritto dal Presidente della Fondazione Don Tonino Bello, Giancarlo Piccini, quindi ci saranno anche illustri relatori che andranno ad arricchire questo momento di riflessione per cui davvero sono grata a Don Pasquale Laporta per avermi dato questa nuova possibilità e ringrazio anche Giuseppe Semeraro, l'operatore culturale che mette sempre a disposizione la sua competenza e la sua capacità per dare a questo territorio sempre nuovi spunti di riflessione e di confronto. Quindi vi aspettiamo qui presso il Santuario a partire da questa sera e fino al 13 di maggio tanti appuntamenti che andranno a caratterizzare questa nuova edizione dei festeggiamenti dedicati appunto a nostra signora di Fatima.